a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi è un giorno importantissimo perché è il primo compleanno quindi oggi starete con noi naturalmente prepareremo la torta Gabriele sta facendo la video lezione e niente quindi tra pochissimo inizierò a preparare la torta vi faccio vedere quella che ho scelto e come la preparo sì vabbè è una crostata non è una torta ma è sempre una torta e niente adesso oggi sarà anche comunque video lezioni quindi i compiti perciò una giornata diciamo normale tranne la preparazione della torta e poi i festeggiamenti che ne faremo però nel pomeriggio se riusciamo facciamo anche la videochiamata con mia sorella e mia mamma che avevano piacere di esserci anche loro e niente basta quindi ci vediamo tra poco che iniziamo a preparare la torta mentre questa bella bambina va a giocare di là ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete sto facendo, adesso vado a fare la salsina e qua invece ci sono le zucchine che adesso vado a mescolare. Questa qui è la salsina che vi dicevo, guardate, vedete? Ho aggiunto un cucchiaio di farina a quel limone, c'erano tre limoni spremuti e l'olio, ci avevo fatto cuocere il pesce dentro. Quello che è rimasto l'ho messo là nel padellino, l'ho fatto scaldare, ho aggiunto la farina e ho sbattuto con la forchetta. Però siccome rimanevano i grumetti, allora io cosa ho fatto? L'ho messo in questo bicchiere e l'ho sfrullato con il mini pimmer e questo qui è il risultato. Lo metteremo a mettere sul pesce e basta. Qui ci sono invece i pomodori per Brina e niente, buon appetito! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!